Salve, sono Alex Ignazio93 e con questo video voglio aggiornarvi sulle future uscite di videogiochi, libri e fumetti di Assassin's Creed. Iniziamo con i fumetti. Il 9 agosto Panini Comics Italia pubblicherà Assassin's Creed Cospirazioni, che conterrà entrambi i volumi dell'opera originale, anticipando così l'uscita del secondo volume in inglese. Per una volta in Italia siamo in anticipo su qualcosa. Per quanto riguarda il resto dei fumetti inediti in Italia, per adesso non ci sono ancora notizie, ma forse qualcosa si sta muovendo. Parlando invece dei libri, sono felice di annunciarvi che il 18 settembre sarà disponibile in Italia il terzo e ultimo volume della serie di The Last Descendants intitolato Il Destino degli Dèi. Invece pochi giorni fa, al China Joy del 2018, Ubisoft ha annunciato un nuovo romanzo di Assassin's Creed intitolato Assassin's Creed The Ming Storm, che si traduce come La Tempesta Ming. In parole povere è Assassin's Creed Chronicles China, però romanzato, quindi con tutte le vicende di Shaoyun quando torna in patria, ma in più, se ho capito bene, ci dovrebbe essere anche qualcosa in più, proprio si dovrebbero vedere gli anni di Shaoyun come mentor e quindi di come ha ricostruito la confraternita cinese. Molto interessante, purtroppo per adesso questo libro sarà disponibile solo per il mercato cinese, ma sicuramente arriverà anche da noi. Per completezza vi devo anche dire che, sorpresa delle sorprese, il 5 ottobre del 2018 esce il videogioco Assassin's Creed Odyssey. Mamma mia, ma chi se lo sarebbe mai aspettato? Gli aggiornamenti su Assassin's Creed si concludono qui, ma aspettate prima di chiudere il video perché devo dirvi una cosa. Allora, voi sapete che non vi ho mai chiesto di iscrivervi, mettere mi piace, condividere, perché non vi ritengo delle scimmie ammaestrate, ma anzi degli esseri umani dotati di una loro testa e del loro libero arbitrio, quindi se volete fare una cosa la fate di vostra spontanea volontà. Bene, vi informo però che da questo momento in poi, nelle descrizioni dei miei futuri video, metterò sempre il link alla mia nuova e fiammante pagina Instagram che ho aperto veramente da poco. Si chiama AlexIgnazio93-Official, perché a quanto pare AlexIgnazio93 era un nickname che già era stato preso, quindi ho dovuto mettere official. Vabbè, vi avverto che per adesso non c'è praticamente niente. Nella mia foto del profilo non c'è neanche la mia faccia, ma tipo ho fatto una foto alla statuina di Connor e gli ho messo qualche effetto così, perché in realtà non mi piace come vengo nelle foto, quindi ho proprio scelto il social giusto per me. Nabbè, cazzate a parte, ho scoperto Instagram abbastanza in ritardo, ne ho percepito le enormi potenzialità e quindi andando avanti mi piacerebbe poi fare cose. È anche un modo molto interessante per interagire di più con voi. E niente, quindi il link è in descrizione. Se volete seguirmi, va bene. Se non volete seguirmi, va bene lo stesso. La scelta spetta a voi. E quindi niente, basta, ho finito e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao! Ciao! Ciao!